Amici stracandidi, sono ore intense, sono ore intense, tra l'altro questo video potrebbe invecchiare un minuto dopo la sua pubblicazione perché la situazione è in continua evoluzione ma si sta andando in direzione dell'esonero di Walter Mazzarri da allenatore del Napoli al suo posto Aurelio De Laurentiis pare abbia scelto Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia tra l'altro vecchia conoscenza azzurra perché ha avuto modo di collaborare con il Napoli sia nel triennio di Sarri sia con Spalletti si susseguono le voci di un imminente annuncio e comunicazione a Walter Mazzarri di essere stato sollevato dall'incarico insieme a lui, insieme a Calzona dovrebbero esserci nel suo staff due vecchie conoscenze e una di queste due, e che vecchia conoscenza Sinatti, il preparatore atletico che l'anno scorso, lo ricordate, lo raccontò anche De Laurentiis è diventato il nocciolo della questione con Garzia, tant'è vero che poi De Laurentiis sposò la linea di Garzia cacciò Sinatti e si tenne lo staff atletico di Garzia e poi Marec, Marecchiaro, Amsic che potrebbe tornare a Napoli con una veste ufficiale quella di essere all'interno dello staff di Francesco Calzona che arriverebbe alla sua prima esperienza da capo allenatore sulla panchina di un club per qualcuno, in parte lo è anche per me, è un salto nel buio ma voi ditemi, cosa non è stato un salto nel buio in questa stagione per quanto riguarda il Napoli? nulla, è tutto un salto nel buio, tutto, tutto a cazzo quindi ci sta anche una manovra disperata nel tentativo di, e ve lo dico come mi viene raccimolare quattrini perché De Laurentiis da adesso a fine anno non mette in mano a Calzona una squadra per provare ad arrivare ad alzare un titolo no! oh, poi, se Calzona fa un percorso alla Di Matteo e vince la Champions League ma tanto di cappello però mi sembra un pochettino, ma proprio pochettino, pochettino impossibile quindi, che cosa si sta dando in mano a Calzona? si sta dando una squadra in difficoltà che va rimotivata bisogna che questa squadra tiri fuori i coglioni perché quarto uomo, tempo onestamente credetemi, quando ho guardato quella scena mi sono scesi i coglioni per terra a me figuratevi ai calciatori figuratevi ai calciatori quindi, è un uomo, Mazzarri, che ha smesso di crederci e andava sollevato, ma ve lo dissi già venerdì perché già i messaggi a parole venerdì erano stati quelli di un uomo in difficoltà e l'atteggiamento era quello di un uomo che non ce la faceva più poi che in Italia ci sia questa cosa che guai a dimettersi perché ci mancherebbe rinunciare ai soldi ma era una decisione che andava presa prima del risultato della partita con il Genoa ve lo dissi già, non è una partita con il Genoa che ci può far cambiare idea è l'atteggiamento che l'allenatore ha avuto in conferenza stampa nel parlare della sua squadra Mazzarri, dodici anni fa, quando andava in conferenza stampa, andava a fare una guerra assomigliava un po' più ad Albano, quindi sembrava un po' più un bonaccione però quando doveva alzare la voce lo faceva adesso è un altro Mazzarri, totalmente un altro Mazzarri e questo Mazzarri a noi onestamente non ci serve ci serve un uomo che sul campo faccia lavorare la squadra che rimetta in riga la squadra che si lavori anche per il futuro quindi chi ha voglia, chi ha voglia adesso nell'immediato per continuare a inseguire gli obiettivi economici del club allora, bene quelli che non hanno voglia di inseguire gli obiettivi economici del club si facessero da parte poi a fine stagione via, dentro, quello che succederà succederà non ci interessa quello che succederà dal primo giugno in poi ci interessa quello che succede da ad oggi ci interessa quello che succede da oggi fino al 30 di maggio non so quando finisce la stagione quindi non posso dire che mi tranquillizza il fatto di avere Calzona perché è il salto del buio di un allenatore che non è mai stato il capo allenatore di un club ma è sicuramente un uomo che ha una certa filosofia è un uomo che probabilmente sarà attorniato da persone che gli faranno capire le dinamiche all'interno del Napoli ci sarà un totem come Marekamsic speriamo perché si sta ancora discutendo su questo quindi non c'è ancora nulla di certo e approcciamo questa gara con il Barca non con la presunzione di dire andiamo e gli facciamo un culo così e gli mandiamo a casa no, perché per come stanno le cose Barca scarso, Napoli scarso vincono comunque loro bisogna comunque trovare all'interno di noi stessi ma di noi stessi calciatori quella motivazione per riuscire tutti quanti a rendere qualcosa in più rispetto a quello che si è reso fino ad oggi e provare a fare un'impresa ma tutto passa dal messaggio che il comandante darà alle sue truppe auguriamoci che il messaggio che manderà Calzona e io continuo a sperare anche Marekamsic sia un messaggio vincente Stracandidi è un video che potrebbe invecchiare ve lo ripeto, tra un secondo perché tutto potrebbe cambiare nei prossimi minuti qualora ci fossero degli aggiornamenti in serata o più tardi o appena sarà possibile torneremo a parlarne per il momento vi auguro un buon proseguimento di giornata e mi raccomanda Stato va buona